Buongiorno e benvenuti a Mattino 6, il nostro consueto appuntamento con la Rassegna Stampa. Andiamo subito a scoprire cosa è successo in Abruzzo e nel mondo, dalle prime pagine dei principali giornali. Ovviamente oggi l'attenzione è tutta su quello che è successo ieri in Senato, l'ultimo discorso probabilmente da Presidente del Consiglio dei Ministri di Giuseppe Conte, che poi è salito al Quirinale per consegnare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Partiamo con la prima pagina del centro. Conte lascia, parola al colle, governo si apre la crisi, il Premier accusa Salvini, va al Quirinale e dà le dimissioni. 5 Stelle e PD trattano per un nuovo esecutivo e la Lega insiste, subito elezioni. Vediamo anche le notizie che riguardano il nostro Abruzzo. L'Abruzzo in ansia per i posti di lavoro, 11 vertenze e 3.000 occupati sono a rischio. Ma anche a proposito di pedaggi, ZES e nomine, gli altri fronti aperti, i dossier ancora da chiudere. E per quanto riguarda il Comune di Pescara, Masci striglia gli assessori, il Sindaco, basta con le iniziative personali, stop al senso unico in via Ferrari. Ma anche è morto lo scrittore Nuccitelli, stroncato da un malore in auto e giovanotti a Montesilvano, oggi la decisione della Prefettura. Ma anche un'attenzione allo sport. Pescara è il giorno di Castanos, il centrocappista in arrivo dalla Juve, Millico e Gabbia nel Mirino. Andiamo avanti per l'edizione di Chieti, Lanciano e Vasto. Morta la suora investita 20 giorni fa. Lanciano, madre Cesarina, 75 anni, era stata attravolta mentre attraversava la strada. E a Chieti è scontro sul mega ospedale e Verì annuncia le assunzioni, l'assessore regionale alla sanità. Sempre a Chieti, saldi, estate fiacca nei negozi, ma arrivano più turisti in città. L'edizione di Teramo, maxifurti nelle abitazioni di Teramo, Svaliggiati un appartamento in centro e la villa di un medico, bottino di 50 mila euro. Ucciso mentre nuota, l'elica è compatibile con le lesioni. È arrivato il risponso dell'autopsia dell'incidente nel mare di Silvi. Ma anche per quanto riguarda il postismo a Teramo, scuole, la ricostruzione ferma crea malumori nella giunta. Andiamo avanti con l'edizione dell'Aquila di Avezzano e di Sulmona. Travolto dall'auto, 22enne gravissimo, all'Aquila il giovane investito nella frazione di Erischia. Le sue condizioni sono disperate. Ma ancora incidenti sulle strade, indagato automobilista 92enne coinvolto nel tragico schianto ad Avezzano. E anche bosco in fiamme da tre giorni, emergenza nel parco nazionale. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero Abruzzo. Sanità, la crisi degli ospedali. Pescara, mancano i posti letto. Pazienti ricoverati in barella lungo i corridoi di geriatria. Cardiochirurgia, urgenze soltanto per residenti a Chieti e l'ASL. Problema già superato. Anche qui l'attenzione sulla suora, morta dopo 21 giorni di agonia a Lanciano. Ma anche l'incidente per un escursionista. Pioggia di sassi, alpinisti salvati sul Gran Sasso. In due volevano scalare il corno piccolo, bloccati dalla caduta di detriti in quota. Ma anche la fotonotizia. Vediamo casi occupati e denunciati 50 abusivi. I carabinieri di Pescara sono tornati nel quartiere di Rancitelli, dove un'intera famiglia, dopo lo sgombero, cercava di introdursi di nuovo nella casa da cui erano stati cacciati. Scrittore cade a terra senza vita. Il dramma a Pescara. Ma andiamo avanti con la città, il quotidiano di Teramo. L'elica incastra il figlio del pescatore. Tragedia a Torrecerrano. Per i periti non c'è dubbio sulla morte del bagnante. Oggi si terranno i funerali. Ma anche inspiegabile epidemia di gastrointeriti a Silvi. Il sindaco non è il mare. Analisi ASL e Arta. Ma andiamo avanti con Asili, Mense e Scuola Bus. Tutto pronto per la prima campanella. Mentre si avvicina il nuovo periodo scolastico. Ma anche a Giulianova rissa tra giovanissimi al Parco Franchi. A proposito del soccorso in montagna. Alpinisti milanesi salvati da una scarica di sassi sul corno piccolo. Ma andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. A partire dal Corriere della Sera. Che ovviamente apre con la politica. Conte processa Salvini. E lascia. Preoccupa chi chieda pieni poteri. La replica rifarei tutto il premier da Mattarella. Con la fotonotizia del premier Conte durante il discorso. Con una mano sulla spalla Salvini. Che lo ascolta sicuramente con malumore. Telefonate PD 5 Stelle. L'ipotesi Fico. Di Maio domanda Zingaretti. Possiamo fidarci di Renzi. Veti e diffidenza. Attenzione tra i democratici. I paletti del Quirinale. Governo vero oppure si torna al voto. E sullo sfondo si tratta per il Colle 2022. Per il dopo Mattarella. Andiamo avanti con la Repubblica. L'ultimo bacione. Citando il ministro degli interni. Conte abbandona Salvini. Il responsabile opportunista e senza coraggio. Non ha voluto chiarire rapporti con Mosca. Dalla Sicilia un altro scacco alla leghista. Atterrà i migranti. Sequestrata la Open Arms. E lui finché posso. Resto al Viminale. Di Maio chiama Zingaretti. Si tratta. E 5 Stelle rivolgono il premier. Andiamo avanti. Il paese perfetto a cui mancano solo i bambini. Ma occupiamoci ancora della politica. Le variabili Renzi sul patto rosso-giallo. Perché adesso bisognerà trovare l'accordo per il nuovo governo. Quando un leader è nemico di se stessi. di Filippo Ceccarelli. Al lavoro abbandonato. Arrischia 31 mila posti. Il fatto quotidiano. Irresponsabile. Ignorante. Codardo. Conte al vice Salvini. Interessi personali contro l'Italia. Appelli preoccupanti alla piazza. Nessun chiarimento sulla Russia. Neppure il coraggio di sfiduciarmi. Ma ci penso io. E va a dimettersi. Dopo che la Lega aveva ritirato la mozione di sfiducia. Al premier. E Mattarella. Il Colle aspetta Democratici 5 Stelle. E da oggi alle ore 16 le consultazioni. Ma anche vediamo le ultime dal PD. Zingaretti e Di Maio. Maggioranza ampia oppure alle urne. Andiamo avanti. Il giornale di male in peggio. Titola Il giornale. Torna la sinistra. Conte processa Salvini in aula. Si dimette e chiama il PD. Renzi accetta il voto e si allontana. Mattarella apre le consultazioni. E subito i PM fanno sbarcare i migranti di Open Arms. Caro Matteo che pasticcio che c'è combinato l'editoriale sul giornale. Il gran triello tra faccine e pugni sul banco e tanti avverbi. Ancora le analisi sulla giornata di ieri. Lo scoglio con Tebis. Fra Di Maio e Zingaretti i tempi si allungano. Ma anche il retroscena. Così la crisi al buio terrorizza il palazzo. Tutti sono a rischio adesso. Ma anche l'ultima follia grillina di Rosario. in Senato segnale alle coste. Alle cosche. L'ultima follia per il discorso di morra dei 5 Stelle al Senato. Secondo cui il gesto di dimostrare un determinato rosario in Calabria. poteva essere un segnale del pre del ministro dell'interno alla mafia. Il messaggero Conte lascia governo politico pure voto. Il premier si dimette da Mattarella dopo l'attacco a Salvini. Ha interessi personali. La replica elezioni sfida Zingaretti Renzi su un esecutivo di legislatura con i 5 Stelle. Da oggi al colle le consultazioni Lampo. Andiamo avanti. Tutti i dubbi del presidente. Intese subito l'ipotesi di garanzia elettorale. E la trattativa telefonata Di Maio al leader PD. Che fate? E il carroccio preoccupato all'appello al Quirinale del leghista spiazzato. Ma anche via allo sbarco dopo il sequestro della Open Arms. Si indaga per omissione. Andiamo a vedere Libero. Il premier si dimette e si offre al PD. Conte che va, conte che viene il titolo. Il presidente del Consiglio scarica la crisi sulla Lega e rilancia con un programma buono per un governo. Con i democratici Renzi accelera verso i grillini. Zingaretti però chiude a un bis dell'avvocato del popolo. Di Maio terrorizzato di restare a piedi. Via alle consultazioni. Siamo specialisti nell'arte idiota dell'autodenigrazione. L'editoriale di Vittorio Feltri. Un altro titolo che non le manda a dire. Un senato di cafoni. E' meglio cambiarlo. Vergognosa bagarre in aula. Vediamo la foto dedicata a Roberto Saviano. Saviano ama la galera ma solo per gli altri. Rifacendosi al giustizialismo dello scrittore. Ritratto di uno spostato. E invece secondo Libero è interessante vedere come Salvini si è salvato. Almeno la faccia. Un discorso orgoglioso del leader. Mentre gli altri giornali incitavano la sua pessima figura. Il manifesto. La pacchia è finita. Il governo giallo-verde è finito. Conte rompe il giocattolo di Salvini con una durissima requisitoria contro il ministro dell'odio e dei pieni poteri. Puoi stare al Quirinale per dimettersi. Mattarella già oggi aprirà le consultazioni per verificare l'esistenza di un'altra maggioranza. E vediamo anche le acrobazie dell'intesa tra 5 Stelle e PD. L'estremo atto di arroganza di Matteo Salvini volto a capitalizzare elettoralmente il credito attribuito lì dai sondaggi a escludere il Movimento 5 Stelle e a inglobare i residui del berlusconismo. Si è rivelato un errore. E nel PD lo scoglio nelle autonomie differenziate. E dopo 19 giorni Open Arms interviene la procura di Agrigento. Nave sequestrata e profughi. Tutti a terra. Andiamo a vedere il mattino il quotidiano di Napoli. Conte Lascia, 5 Stelle e PD trattano duro attacco d'accusa del premio Rassalvini. Un irresponsabile ha seguito interessi personali. Poi va da Mattarella e si rimette. Il leader leghista ha subito le elezioni e oggi le consultazioni. Nella linea del Colle, accordo rapido. O si va alle urne, il Quirinale intenzionato a non perdere tempo, intesa subito, o sì alle elezioni. Mattarella non vuole ripetere stavolta il lungo teatrino che portò alla formazione del governo gialloverde 14 mesi fa. Zingaretti e Renzi subito la divisione sul nuovo governo. Il segretario esecutivo forte, o meglio le urne, l'ex premier, serve un'intesa istituzionale. L'ha studiata metamorfosi dell'avvocato del popolo. Il capitano spiazzato si affida al Quirinale. I due ritratti messi a confronto sul mattino, ma anche il dramma migranti, il via allo sbarco della Open Arms. La nave è sequestrata. Il sole 24 ore, il quotidiano economico-finanziario. Conte lascia tempi stretti per la crisi. L'ultimo duello con Salvini, agito solo per interesse personale inaffidabile. Il rilancio del leghista, pronti al taglio dei deputati, poi voto. La mozione di sfiducia ritirata. E i democratici, sia un confronto con i 5 Stelle, e poi vedremo se formare un governo. E la strategia del Quirinale è un esecutivo politico. O subito il ritorno alle urne. Manovra minima da 30 miliardi. Si apre la partita sulla flessibilità dell'Unione Europea. Con esecutivo senza sovranisti, possibile deficit aggiuntivo di 10 miliardi. Meno 1,1 il giudizio dei mercati. Borsa in discesa, ma lo spread si rafferma a quota 204 dopo la parlamentarizzazione della crisi. Ma vediamo anche qualcosa dagli esteri. Brexit no dall'Unione Europea e dalla Merckett a nuovo trattato. Sulla Brexit il Presidente del Consiglio Europeo ha respinto le proposte del Premier britannico sulle garanzie per il confine irlandese. Anche la cancelliera tedesca Merkel ieri ha bocciato la richiesta britannica di rinegoziare i trattati di un'uscita dall'UE. Ma è possibilista per trovare soluzioni pratiche. Ma anche Mediaset verso le assemblee e fondi divisi sulla fusione. Andiamo avanti il tempo sempre con il romanaccio in cui anche questa volta mi addentrerò. Ammazza o così sul cazzo testavo, perdonatemi, chiedo scusa. Palazzo Chigi era un nido di vipere nel giorno delle sue dimissioni. Conte svela in Senato tutto il suo disprezzo per Salvini. Finisce malissimo le raggialloverde Renzi e Zingaretti divisi su 5 stelle. Ora direzione PD. Oggi Mattarella a Quirinale inizia le consultazioni e la profezia di Renzi. Ti molleranno tutti. Su Open Arms ha deciso il PM tutti sbarcati. Ma c'è spazio anche per la cronaca abusata dal papà dell'amichetto al Quadraro arrestato per violenza sessuale su una dodicenne. E anche un altro delfino morto, stavolta a Fiumicino, scatta di nuovo la psicosi. La stampa l'addio al veleno di Conte. Salvini sleale con l'intesa subito fra i 5 stelle e il PD. Io voto. La Lega ritira la mozione di sfiducia. Troppo tardi. Oggi direzione dei Democratici e sui migranti. I giudici ordinano lo sbarco dell'Open Arms. Il Premier parla 50 minuti e attacca il suo vice. Mi preoccupa chi chiede pieni poteri e invoca le piazze. Consultazioni oggi e domani. Il rischio è quello di allungare i tempi. Cara il sipario e l'aula diventa una corrida. Tutti d'accordo sul triste spettacolo. Il Quirinale alla ricerca del governo forte. Litigi e insulti. Un anno vissuto sempre contro. Di Maio il silenzio del subalterno. Zingaretti rischia tutto. La prova del capitano. Ma vediamo anche stavolta quelle rare notizie che arrivano dagli esteri. Bolsonaro punta sulle scuole militari in Brasile. Andiamo avanti sulla verità di Maurizio Belpietro. Un conte decaduto si offre al PD. L'avvocato del popolo scorda di aver governato con il carroccio e attacca a testa bassa il vice premier. Poi sfodera un discorso di insediamento. Sogna di fare il bis con l'appoggio della sinistra. Il nuovo patto del Lazzarone lascia gli italiani. In panchina, secondo la verità. Ma Bibiano e Bibbona sono più vicine del previsto. Gli accostamenti tra la politica e la cronica del quotidiano di Belpietro. L'avvelenata del premier ha addormentato da un anno il discorso del premier secondo Mario Giordano. Ma anche la Lega ritira la sfiducia. Per le riforme ci sono, ma Salvini vuole votare. E Renzi sfrutta il ribaltone per riprendersi il partito. Infatti ha tenuto un discorso ieri in Senato e il premier è salito al college. Oggi le consultazioni 5 stelle devono decidersi. Il secolo, la pacca è finita a Casa Conte, ma guai a fare un governo con i due PD di Zingaretti e Renzi. E persino con i veri uguali fateci votare l'appello di Francesco Sorace. Meloni sgama il premier, difende le poltrone dei 5 stelle e al solito il PD si divide. Zingaretti no a un Conte bis e Salvini contro i grillini. Governo con il PD, tanti auguri. L'avvenire, il quotidiano cattolico. Tramonto giallo-verde, Conte accusa Salvini di opportunismo e scorrettezza istituzionali. E va a dimettersi da Mattarella. La Lega tenta di ricucire in extremismi, ma è aperta la trattativa tra 5 stelle e PD per un nuovo governo. Un infuocato dibattito al Senato avvia un'ardua crisi politica. Il carroccio ritira la mozione di sfiducia. Da oggi il via, come abbiamo visto, alle consultazioni. Ma siccome si è parlato tanto dei simboli religiosi, vediamo il commento del quotidiano cattolico. Si va presto a dire simboli e poi religiosi. Anche il dibattito al Senato sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio ha usato a sproposito la parola simbolo seguito dall'aggettivo religioso. Ma anche il ritorno a casa dei piccoli orfani del Daesh sorvolano i cieli della penisola arabica diretti verso casa. In Belgio sei figli di foreign fighters deceduti via dall'inferno. Open arms sequestrata, fatti sbarcare i profughi e ancora spazio alla geopolitica, missile degli Stati Uniti, escalation con la Russia e la Cina. Primo lancio dopo l'addio al Trattato INF e corsa agli armamenti adesso. Tensione sul panorama geopolitico. Ma c'è spazio per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi a partire dalla Gazzetta dello Sport. All'attacco pronti i bomber da oltre 2000 gol. Una Serie A mai vista. Il mercato ci sta regalando un campionato che promette spettacolo. Lukaku, Lozano e Balotelli aumentano la potenza in area di rigore dei nostri club. E Tony, Cristiano e Ronaldo il re. E sarà l'anno di Belotti. Qui, mentre vediamo nella fotodontizia, tutti i protagonisti del campionato. Che sta per iniziare 10 uomini da 2.198 reti. E rimane invece il dubbio su Icardi congelato. Icardi dove vai? La nuova casa è un'altra sfida all'Inter. Domani scade l'offerta del Napoli. Sanchez, ci siamo. Potrebbe arrivare da Conte domani. Oggi a Manchester, vertice decisivo. Gli inglesi chiedono un piccolo indennizio. Dalbert verso l'inizio. Obiettivo, Biraghi. Ovviamente il Conte in questo caso è un altro, è Antonio. Gimondi pedala nel mito. Quanta gente ai funerari. La bara portata dagli amici di sempre a proposito del ciclista scomparso. Andiamo avanti sul Corriere dello Sport. Mister Dribbling, un'altra Eurostar, si aggiunge a De Ligt, Lukaku, Ribiot, Lamsey, Sanchez e Lozano. Firenze si accende con Ribery. Ma anche il nostro studio, pregi e difetti. Prima del via, la Juve è sempre favorita, ma le ultime operazioni potrebbero spostare. Ma vediamo anche la Roma, Zappacosta per Fonseca, ora Mariano. E il Milan, Tris, tutti felici di stare qui. Andiamo avanti su Tutto Sport. Chi parte, chi arriva. Paratici vicino allo scambio fra il croato e il tedesco. Trattativa serrata per Super Mario ai Blu Grana. In cambio di Mirando Rugani a un passo dalla Roma. Di bala congera il PSG. Ma vediamo anche un toro furioso. Il mondo Granata contesta la designazione del portoghese Diaz per la gara con i Wolves. Il club inglese più lusitano che ci sia, 14 tesserati. E il Deus Ex Machina è Jorge Mendes, nato a Lisbona. Interscatenata, Lukaku, boom, a San Siro in 60.000 per il Lecce. Ma anche Fiorentina e Euforica. Sì, c'è il Ribery. Ora commisso, punta De Paul e Berardi. Ma vediamo anche l'Atalanta, l'Axalt, o qualsiasi ne sia la pronuncia. Il maestro Gasp. Per questa prima parte della nostra rassegna stampa è tutto. Adesso le previsioni meteo e dopo torniamo sfogliando pagina per pagina i principali quotidiani locali. A tra poco. Bentornati a Mattino 6, la rassegna stampa di questo mercoledì 21 agosto. Adesso concentriamoci sulle questioni abruzzesi e sfogliamo il centro. Vediamo Pedagi, Zess, Nomine, Abruzzo, Installo. I dossier rimasti aperti dall'avvertenza strada dei parchi in ministero all'approvazione della zona economica speciale. Sono tante le questioni in ballo. Andiamo avanti. Aperte 11 vertenze. A rischio 3.000 posti. Ranieri della CGL. La regione deve svolgere un ruolo attivo nella gestione della crisi e nella ricollocazione dei lavoratori. Ma anche al mercatone 1 cessione azienda entro il 2019 via alla mobilità volontaria. E inizia l'era Buomarc in ballo il riassorbimento di 162 addetti. Vigilanza nei musei statali. A disposizione 30 posti. Il termine per le domande per partecipare al concorso scade il 23 settembre. In Italia le posizioni aperte sono complessivamente 1.500. Basta il diploma. Entravediamo nella fotonotizia uno dei simboli della nostra regione. Il guerriero di Capestrano. SRL in salute crescono gli addetti, l'Abruzzo e la regione del sud, che registra le performance migliori a proposito delle imprese. Andiamo avanti. Il Cipe sblocca altri 751 milioni di euro per la ricostruzione dopo il terremoto del 2009. L'Aquila andrà alla fetta più consistente, ben 428 milioni. I comuni del cratere ne andranno 284 e 40 agli altri e dal 16 settembre si tornerà a scuola. Ma sono scaduti termini per aderire al condono per il bollo auto a proposito della pace fiscale voluta dal governo. Andiamo a vedere la pagina di Pescara sulla politica nel comune Masci-Bacchetta. I suoi assessori basta con le iniziative personali. Il sindaco va su tutte le furie per le dichiarazioni sul mercatino etnico lasciate da Cremonese e il vice sindaco Mascia. Poi se la prende con Dinisio, convocato un vertice di maggioranza il 28 agosto per la resa dei conti. Infatti sono giunte dichiarazioni sul mercatino etnico che dopo soli 4 mesi, da quando è stato aperto, verrà presto chiuso. E dall'amministrazione in molti hanno parlato pubblicamente, ognuno con una proposta diversa su come utilizzarlo dopo la chiusura. Vediamo meglio nel nostro servizio. Verrà chiuso il mercatino etnico nel sottopasso di via Ferrari a Pescara. Benché 31 commercianti hanno ottenuto titoli abilitativi e hanno pagato le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione pescarese intende impugnare la legge regionale del 31 luglio 2018, secondo cui il titolo abilitativo è dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori a un mese in ciascun anno solare. Infatti nel periodo estivo sono state pochissime le bancarelle allestite. Alcuni commercianti, una volta chiuso il mercato, saranno spostati in dei posti disponibili nei tradizionali mercati rionali. Mentre in comune sono tutti d'accordo sulla chiusura del punto vendita inaugurato appena quattro mesi fa e costato 250 mila euro di soldi pubblici, questione tra l'altro su cui si è accese la campagna elettorale, le proposte su come riutilizzare il tunnel della stazione ferroviaria sono molte e discordanti. Il consigliere comunale Fabrizio Rapposelli propone di riaprire il passaggio al traffico oppure di stabilire un parcheggio per i camper. Il vice sindaco Luigi Albore Mascia invece aveva parlato di un museo del treno e l'assessore al commercio Alfredo Cremonese vorrebbe realizzare infine un deposito per l'affitto di bici e monopattini elettrici, proprio mentre impazza la polemica sull'omologazione e le richieste di ritiro dal mercato di questa tipologia di mezzi. E rimaniamo su Via Ferrari, sempre a Pescara. A proposito di viabilità, Via Ferrari va in fumo il piano per realizzare il senso unico retromarcia dell'assessore Albore Mascia dopo lo stop della Lega. Salta anche la sperimentazione, i problemi della viabilità staranno al centro del vertice di maggioranza convocato per il 28 di agosto, ma proseguiamo. No alle case confiscate per i senza tetto. Il consigliere regionale Blasioli interviene sull'emergenza a povertà e contesta i progetti del comune mentre continuano gli sgomberi dei fabbricati occupati dopo che erano stati abbandonati. Rimaniamo a Pescara, bocciata per il tempo libero, piano di rilancio. Si ha Eistat, la città, e indietro su mostre, eventi e librerie. E con Partigianato serve un lavoro di squadra con la politica, con qui tutte le cifre, i dati a proposito degli eventi, della cultura e del tempo libero a Pescara. Mentre il primato, leggiamo in Abruzzo, è di Teramo. Andiamo avanti con il messaggero Abruzzo. Vediamo come sul messaggero la politica nazionale si ripercuote anche su quella regionale della crisi di governo. Le stoccate di Conte sorprendono anche i senatori abruzzesi, Nazario Pagano di Forza Italia. Lo hanno fatto diventare un leader e D'Alfonso del PD ha assunto una sua consistenza politica. L'iniziativa, la lotta contro la mafia, eventi a Colledara, ma anche la torre solitaria di Speroni, tutti intorno. Soltanto bellezza a gioia di marsi. Con qui la foto di uno dei più spettacolari paesaggi della nostra regione. Andiamo a Pescara. Casi occupate, denunciati 50 inquilini. I carabinieri tornano in azione nei quartieri degradati. Blitz ieri mattina nei palazzi. Ater di via al lago di Borgiano. I militari hanno allontanato una famiglia di quattro persone. Cercavano di introdursi nuovamente nell'appartamento murato, lasciato vuoto. Mercatino etnico. Si revocano le licenze, come abbiamo visto. E anche muore in strada lo scrittore Nuccitelli. Andiamo avanti. Occupiamoci di sanità, geriatria, malati lungo i corridoi. Nel reparto 77 pazienti contro i 52 posti letto disponibili. Sulle barelle anche ricoverati con le bombole a ossigeno. Ieri un sopralluogo dell'assessore comunale Dinisio. La regione deve affrontare al più presto il problema. E a proposito di questa questione del sovraffollamento nel reparto di geriatria, vediamo l'approfondimento nel nostro servizio. A Pescara il reparto di geriatria dell'ospedale Spirito Santo è praticamente al collasso. La denuncia arriva dall'Udc con il capogruppo al comune di Pescara Massimiliano Pignoli che annuncia azioni di protesta eclatanti. Siamo stati ricevuti dal direttore sanitario che c'è ovviamente riconfermato quello che diceva lei, cioè il fatto di questo sovraffollamento. Però noi abbiamo detto che c'è l'ottavo piano con l'ala vuota e che ci sono dei reparti come l'Oculischi e l'Otorino che sono semivuoti a cui potrebbero essere sistemati queste persone. Questa mattina l'assessore si è arrecato presso il reparto di geriatria, ha riportato delle documentazioni sia cartacea che fotografica abbastanza allarmante. Persone messe sul corridoio addirittura con la popola ossigeno per terra che non è a norma. Quindi ripeto, non escludiamo azioni eclatanti nei prossimi giorni se la situazione non dovesse migliorare radicalmente. L'assessore, la terza età del comune Nicoletta D'Inisio, raccogliendo invece le proteste degli utenti, chiede una risoluzione immediata del problema e l'impegno della regione dell'assessorato alla sanità. Sicuramente insieme alla regione, insieme all'assessore Verì, che già aveva aperto un tavolo, insieme all'assessore Verì, insieme ai sindacati, proprio per il dannoso problema della geriatria e anche di altri reparti. Quindi sono qui per rinvitare la dottoressa Verì a riaprire questo tavolo perché sicuramente insieme, collaborando insieme, possiamo avere una risoluzione. Anche perché la gente, tutti noi, siamo stanchi di avere sempre tagli, tagli, tagli alla sanità e quindi la richiesta, la maggior richiesta che parlo a nome di tutti, di dire alla Verì, alla dottoressa Verì, magari di incrementare qualche volta la sanità pubblica e i tagli magari li facciamo da un'altra parte. Torniamo sul centro e vediamo le pagine dedicate a Montesilvano perché oggi è una giornata decisiva. Infatti, Giovanotti a Montesilvano si decide per il concerto. Alle 10 la riunione della Commissione in Prefettura e il sindaco De Martini si ha firmato nuove ordinanze ed è pronto a dare il via ai lavori sulla spiaggia. Oggi si saprà se il 7 di settembre si terrà il concerto e finalmente porremo fine a questa questione. Di Battista, un polo culturale tra Stella Maris e Via Delfico, la proposta del consigliere. Andiamo avanti. Si pari sull'ensemble, i grandi attori, i premiati a spoltore. L'ultima serata è stata una festa dedicata al teatro italiano, alla moglie e il riconoscimento alla memoria per Arnoldo Foa. Ma leggiamo anche Casa Fuoco, nuovo sopralluogo, città Sant'Angelo, indagini per scoprire le cause dell'incendio. Con esplosione, iscrizioni al pre- e post-scuola, previste esenzioni e agevolazioni. A Francavilla il Comune rende note le tariffe del servizio relativo all'anno scolastico, ormai le porte. Le famiglie, con un reddito inferiore a 5.000 euro, non pagheranno sconti a chi deve iscrivere. Più figli. Anziano sperisce, lo ritrovano dopo dieci ore a Francavilla, sempre esce di casa la mattina e viene rintracciato di sera. Sì, vi allarme dato dalle due famiglie, ma questa storia ha avuto un lieto fine. Proseguiamo. Lo stadio di penne tra rubacce e curie. La denuncia dell'ex consigliere Malachi, che interviene sullo stato del Colangelo, si intervenga subito. La società dovrà emigrare. Andiamo a vedere pre-ospedale e prenotazioni nel Mirino. Popoli, Natale, scriva l'assessore Everì, le liste d'attesa rendono difficili le cure, ma anche a Roccamorice cade sul sentiero per l'eremo, soccorso con l'elicottero. Andiamo avanti. A Chieti, estate fiacca nei negozi, ma tornano i turisti. La mentele sul colle, allo scalo, poche vendite, fa eccezione solo Megalò, le presenze straniere sono però in aumento, ma l'accoglienza è da bocciare. Ma anche Mirò, il Consiglio di Stato, deciderà il 29. A Chieti si discutono a fine mese i due ricorsi per tornare a costruire il nuovo parco commerciale bloccato. Sanità e scontro sul mega ospedale. Chieti tutti sono per l'integrazione Chieti-Pescara, ma l'assessore Verì prende tempo e annuncia nuove assunzioni alla ASL. Ladri rubano 500 scatole di caffè, due furgoni. A Guardia Grele è assaltata nella notte l'azienda Happy Water, deposito svuotato e danni per 70 mila euro. Ma vediamo che Giovanotti, l'attesa di Fossacesi, è il sindaco sulla candidatura ad ospitare il concerto, pronti a fare la nostra parte. Se oggi non si dovesse decidere per il concerto a Montesilvano, Fossacesi è pronta per ospitare l'evento. Ma andiamo avanti. Il comune condannato si rifiuta di pagare a vasto maxi contenzioso per un albergo mai nato. L'ente non vuole risarcire e nonostante le sentenze. A Teramo, terzo processo per la discarica crollata, la procura manda a giudizio un tecnico del comune per la gestione del percolato e del biogas dopo i fatti di 13 anni fa che causò un disastro ambientale. Blitz per sgomberare due spiagge libere. A Tortoreto, Guardia Costiere e Comune portano via di notte 300 tra ombrelloni, lettini e sdraio ma anche i nervi tesi in giunta sull'edilizia scolastica. L'assessore Marroni sulle opere post-sisma su questo argomento serve una scossa. I soldi ci sono. Il gioco di parole tra la scossa e il sisma. Andiamo avanti. Maxi furti in casa rubati lingotti e Rolex forzata la cassaforte della villa di famiglia e svaliggiato un attico complessivamente e bottino da 50.000 euro. Ma anche, come abbiamo visto, caduta di massi. Blocca alpinista in due recuperati con l'elicottero sul corno piccolo. L'incendio sfiora cisterna di gasolio. Adatri le fiamme devastano un finile ma i pompieri evitano guai ben peggiori. Andiamo a Silvi. l'elica è compatibile con le ferite mortali sopra il luogo del medico legale di un ingegnere nautico sulla barca disposto dalla procura. Oggi i funerali della vittima. Ma anche le gastrointeriti non dipendono dal mare. Silvi allarme sui social per alcuni casi nei bambini. Scordella, Arteasle escludono un inquinamento delle acque. Andiamo all'Aquila. Gran Sasso sui prati c'è la sosta selvaggia. Automobili parcheggiate in area parco fuori dagli spazi consentiti Pignatelli centro turistico quassù è una giungla. Travolto da un'auto 22 anni gravissimo incidente sulla statale 80 a rischia un ragazzo potrebbe essere scivolato il conducente dell'automobile è sotto shock. Ma vediamo anche carcere ingiusto risarcimento agli assolti Petrilli presto una nuova manifestazione. Trovato morto in casa il PM dispone l'autopsia torna in parte l'ipotesi del gesto volontario ma anche bosco in fiamme emergenza nel parco fuoco in un'area tra Marsica e Lazio in azione Canadair ed elicotteri chiuso il valico di Forca d'Acero. Andiamo avanti con la cronaca ad Avezzano ferito a colpi di bottiglia in tre neguai per lesioni. Andiamo avanti prima di occuparci dello sport torniamo sul messaggero e leggiamo cosa giunge dal capoluogo di regione Duomo e Santa Maria Paganica potrebbero arrivare i 30 milioni sono i fondi stanziati dal Cipe nel 2016 destinati a ricostruire due luoghi di culto nel finanziamento anche i soldi per finire il restauro e valorizzazione delle mura storiche. E vediamo il sindaco Biondi con Giorgia Meloni Biondi non penso a candidarmi al Parlamento e andiamo avanti più istituzionale la sfida laica in vista del riconoscimento dell'UNESCO si seguirà in maniera pedissequa la normativa sul cerimoniale le associazioni cittadine sono fuori dal protocollo e potrebbe decidere di disertare in massa il corteo andiamo avanti accordo a sinistra pronta una lista si punta a un consigliere incontro di rappresentanti di potere al popolo e di articolo 1 obiettivo mille voti c'è Malcontempto nel PD che non è un partito di sinistra sostiene Paolo Domenici e Casale che figuraccia su Vecchioni ed Avezzano andiamo avanti a Chieti dal nuovo ospedale Aldea il PD attacca il centro destra Paolucci chiarezza sulla programmazione le asle più importanti ancora senza manager e gli assessori Veri e Febbo per 5 anni centro-sinistra incapace di produrre decisioni mentre cardio-chirurgia pubblicati due bandi per le assunzioni a proposito di sanità abbiamo visto la questione ancora tutta sul DEA di secondo livello e scontro tra Chieti e Pescara se dovrà nascere il maxi ospedale dei due capoluoghi oppure se dovrà essere promosso a DEA di secondo livello solamente quello di Pescara perché dovrebbe averne i requisiti ministeriali ad hoc come dice il sindaco Masci ma vediamo di più nel nostro servizio il PD fa il punto della situazione per quanto riguarda l'idea di secondo livello bando ai campanilismi avete parlato di quelle che sono le criticità ribadendo di essere favorevoli al project financing e adunque un nuovo ospedale a Chiedi noi siamo favorevoli perché è stata sempre la nostra proposta però quello che chiediamo dopo sei mesi è che ci sia chiarezza dall'altra parte cioè da parte di chi oggi governa che allora era contrario a questo tipo di proposta semplicemente ce ne deve dare un'altra perché non possiamo lasciare l'ospedale così come sta senza parcheggi con i cittadini e le famiglie e gli utenti che sono gravati dalle difficoltà della struttura e con mezzo ospedale sostanzialmente chiuso penso che sia un passaggio determinante quello di dirci con chiarezza cosa si intende fare rispetto alla struttura sanitaria a Chiedi lei ha parlato anche del problema delle nomine di alcuni primari beh sì vogliamo capire perché da mesi e mesi scendono le prestazioni chirurgiche e non si fanno le nomine dei nuovi primari la domanda è non vorremmo anzi non vogliamo e quindi chiediamo non è mica merce di scambio elettorale anche quella pensiamo di no però per avere chiarezza anche su questo punto chiediamo un'immediata procedura che avvii la nomina del primario nuovo rivolgete alla regione ma anche alla ASL assolutamente sì però ASL che è afflitta dalla carenza della governance da mesi e mesi e mesi quando all'ultimo scorcio della precedente legislatura noi proponavamo una sorta di proroga ponte per arrivare poi con il nuovo governo regionale anche alla nuova identificazione della governance ci fu detto andiamo in procura se lo fate però la risposta non può essere che dopo mesi e mesi sia in assenza del direttore generale a Chieti e all'Aquila penso che sia un grave errore andiamo avanti velocemente con la nostra rassegna stampa andiamo a Teramo scuole piano sicurezza a fondi ok progetti zero istituti manca solo la fase finale email per informare sui due bandi tra i plessi finanziati c'è anche la Savini va ristrutturata la sede oppure rifatta altrove ma anche vediamo il caso curioso segue tracciato del GPS finisce nel fosso a Roseto andiamo avanti corno piccolo alpinisti sfiorati dai massi due escursionisti milanesi si erano avventurati in una parete ma hanno sbagliato il sentiero e sono finiti all'immondezzaio in quella zona cadevano pietre dall'alto si sono rifugiati in una fessura poi hanno chiesto aiuto salvati con il verricello nuotatore tranciato da una barca oggi l'addio a Mario Deustacchio Giulianova andiamo avanti con la città il quotidiano di Teramo Abruzzo condivisione sulla riforma della sanità l'assessore regionale alla salute Nicoletta Velì risponde a Silvio Polucci su idea di secondo livello come abbiamo visto rubata in spiaggia la sedia speciale utilizzata dai turisti disabili andiamo avanti Teramo regina d'Abruzzo per il tempo libero nella classifica delle 107 province italiane per turismo svago e cultura siamo al 35esimo posto recuperati due alpinisti minacciati dai sassi come abbiamo detto tramite un elicottero del 118 bagnante ucciso dall'edilica dell'insidioso questo è il nome della barca per il perito le ferite sono compatibili con il fuoribordo della barca da pesca oggi i funerali della vittima imprese le SRL Abruzzo crescono più della media per quanto riguarda il sud Italia e campanella d'allarme sulla scuola Teramo asili mensi e scuola bus per la prima volta tutto in ordine per l'avvio delle elezioni ma la sicurezza si chiede il quotidiano la città andiamo avanti a Tortoreto liberati 12.000 metri quadrati di spiaggia arenile pubblico occupato abusivamente dai bagnanti sequestrati 300 pezzi tra ombrelloni e sdraio ma andiamo avanti risse al parco davanti ai bambini a Giulianova 20 ragazzi si sono affrontati domenica sera dentro il parco Franchi ma anche la CGL sia la Giulianova patrimonio a gestire i rifiuti il comune apre alla proposta di municipalizzare il servizio e dote con la partecipata inspiegabile l'epidemia di gastrointeriti il comune di Silvia assicura il mare non c'entra analisi a Slearta nella norma incendio nella fattoria tra i calanchi ad Atri i pompieri impediscono alle fiamme di raggiungere una cisterna GPL andiamo avanti saltiamo la cultura per tornare sul centro occuparci di sport andiamo subito su quella che riguarda le squadre della nostra regione il Pescara pensa anche ai baby Milligo e Gabbia vediamo il Torino apre alla cessione dell'esterno d'attacco però su di lui c'è anche il Chievo sondaggio per Drudi ma in difesa piace il giovane del Milan oggi firma Castanos andiamo avanti Gianpaolo scommetto sulle qualità di Galano prima attaccante in Biancazzurro e poi Salerno oggi è l'allenatore della Recanese in serie D Teramo in arrivo Bombaggi via Barbuti a Cordo Vicino con la Mezzala del Pordenone l'attaccante ceduto Alfano domenica Catanzaro si giocherà alle 16 e 30 domani sarà presentata la squadra andiamo avanti il colpo della Renato Curi Angolana ha preso Farias Falco e Montuori al Delfino andiamo avanti Loreto a Prutino scatenato San Luca preso Mainella Gian Lorenzo e Marinucci al Pacentro il portiere Ricci dice sì al Casoli 1966 vediamo anche i titoli degli altri quotidiani sullo sport Pescara torna l'ipotesi sottile la Fiorentina con il rinforzo di Ribery potrebbe liberare il giovane figlio d'arte si continuano però a sondare anche altre piste Pasquato non convince l'allenatore Zauri Cassanossa è fatta ora e caccia a una mezzala per quanto riguarda il Cipriota che tornerà in riva all'Adriatico e a Francavilla arriva il polacco Ligocchi e al Belvedere sfilano le Bianche Azzurre per quanto riguarda il calcio femminile Teramo Bombaggi ormai ha un passo il centrocampista del Pordenone salvo sorprese sarà breve un giocatore bianco-rosso registrato i passi avanti tra il club Nero Verde e la mezzala altrimenti rientra Costa Ferreira ma vediamo anche a proposito di Pallamano il nuovo campionato di A2 parla Teramano e per quanto riguarda la Serie D Bartolini Real al meglio uscire ora che perdere in finale stiamo parlando ovviamente del Giulianova andiamo a vedere la città di Teramo golle non solo Mungo si è preso il Teramo contatti con Tedino per tutta l'estate prima dell'ok e si sblocca la trattativa per Bombaggi nuovo rinforzo Tasba arriva Simone Scarnecchia per quanto riguarda il basket il giovane playmaker ha già grande esperienza nella Serie C Silver grande opportunità per me andiamo avanti parliamo sempre di basket Giulianova è iniziata la nuova stagione tante novità nel roster di coach Ciocca girone molto impegnativo vogliamo arrivare in alto le ambizioni del Giulianova basket questa era l'ultima notizia sui nostri quotidiani regionali per questa mattina è tutto io vi ricordo che alle ore 14 tornerà il TG6 con l'informazione grazie per averci seguito buona giornata grazie per aver guardato